8 arresti tra Taranto, Bari, Lecce e Napoli per associazione delinquere finalizzata al riciclaggio e alla ricettazione di diverse auto di alta gamma commerciale attraverso il metodo della falsa nazionalizzazione. Denunciate 53 persone coinvolte a vario titolo nei reati di riciclaggio, falsità in atto pubblico, ricettazione e falsa attestazione del privato e ancora scoperto un illecito profitto di circa un milione di euro, sequestrate 16 auto di lusso e sequestrati i fascicoli di nazionalizzazione delle vetture presso le motorizzazioni civili di Napoli, Palermo e Lecce. È l'esito di un'operazione effettuata questa mattina all'alba dalla Polizia stradale di Taranto, coordinata dal sostituto procuratore della Repubblica, Marzia Castiglia, e dal vicequestore Nicola Manzari. L'attività illegale si esplicava attraverso la re-matricolazione in Italia delle auto attraverso l'utilizzo di documenti di circolazione estera contraffatti. L'indagine ha avuto inizio a maggio 2018 a seguito del monitoraggio effettuato sulle pratiche di nazionalizzazione che vengono trattate dal Dipartimento Trasporti Terrestri. È stata così scoperta, è stato detto oggi in una conferenza stampa alla Polstrada di Taranto, una organizzazione criminale stabilmente incardinata sul territorio tarantino e che si ramificava su tre regioni meridionali, Puglia, Campania e Sicilia. L'indagine supportata dalle intercettazioni telefoniche e ambientali ha messo in luce l'esistenza di un gruppo dedito a questa illecita ma estremamente redditizia attività di riciclaggio di auto di alto valore commerciale. In particolare l'associazione a delinquere, cappeggiata da due tarantini ed un napoletano, poteva contare su una strutturata organizzazione della quale facevano parte persone con conoscenze tecniche e professionalità evolute capaci di manomettere dati sensibili delle vetture di ultima generazione trafugate sul territorio nazionale. Scoperto anche il ruolo di altri complici che avevano il compito di intestare a società locali di rivendita auto alcune dalle vetture fraudolentamente sottratti a società di noleggio immatricolate con il metodo delle false nazionalizzazioni. Un ruolo determinante, afferma la Polstrada, è stato poi svolto dalle agenzie di pratiche automobilistiche delle aree di Taranto, Napoli e Palermo, le quali, è stato detto oggi in conferenza stampa, hanno messo a disposizione le proprie competenze tecniche consentendo di nazionalizzare le auto con documenti esteri falsi. Nel corso dell'indagine uno dei capi del sodalizio criminale si è allontanato rifugiandosi in Germania, i componenti dell'organizzazione invece facevano uso anche di un linguaggio criptato con frasi convenzionali per sviare l'attenzione degli inquirenti.